Il modus operandi era sempre lo stesso. Proponevano offerte d'acquisto rivolte a prodotti in vendita su piattaforme online, poi si facevano contattare telefonicamente dai venditori e, come ultimo step, fingevano scarsa dimestichezza nelle procedure d'acquisto, spingendo poi quegli stessi venditori ai bancomat dove poter espletare le procedure da credito. Una volta arrivati gli sportelli scattava il gioco di prestigio. Con abili raggiri i truffatori riuscivano a trasformare quegli accrediti in operazioni da debito all'insaputa del malcapitato venditore. Una vera e propria arte della truffa divisa fra Webb e Bancomat, quella smascherata dalla polizia di Fano, che dopo una mirata attività investigativa ha denunciato in stato di libertà quattro cittadini italiani presunti responsabili di queste truffe. Le indagini sono scattate al ripetersi delle denunce al commissariato fanese diretto da Stefano Seretti, dove si ripetevano le stesse modalità. Prima l'intenzione dell'acquisto, poi tutta una serie di scuse sulle modalità di pagamento, talvolta millantando anche difficoltà legate a presunte disabilità e infine i malcapitati venditori finivano al Bancomat. Una volta digitati i codici via telefono scattava la truffa. Le operazioni al Bancomat sono state ripetute più volte, c'è chi ha perso 400 euro e chi addirittura se ne è visti sottrarre 3.000.